Domenica prossima, 12 maggio, quando in Italia si celebrerà la solennità dell'Ascensione, solennità che in Vaticano si celebra nella giornata di domani, esattamente 40 giorni dopo la Pasqua, domenica prossima il Papa procederà alla canonizzazione di alcuni beati. Ricordiamo che invece Telepace, nella giornata di sabato, sabato 11 maggio, a partire dalle 10.10, in diretta dalla Basilica di San Paolo fuori le mura, seguirà la beatificazione che farà il Segretario di Stato, il Cardinale Tarcisio Bertone, di Nonsignor Luigi Novarese. La celebrazione inizierà alle 10.30, noi saremo in diretta intorno alle 10.10. Una settimana fa, dicevamo, ricordavamo, era la festa di San Giuseppe Lavoratore, la festa dei lavoratori, e il Papa, ricordando appunto San Giuseppe Lavoratore e all'inizio del mese, che tradizionalmente è dedicato alla Madonna, ha voluto soffermarsi su queste due figure, così importanti nella vita di Gesù, della Chiesa e della nostra vita, con due brevi pensieri, diceva il Papa, il primo sul lavoro, il secondo sulla contemplazione di Gesù.